Non abbatterti, V. Johnny, sto morendo e non posso farci nulla. V, mi chiamo Sonny Bird. Lavoro per l'intelligence degli anni USA. So della bomba orologeria che hai in testa. E posso salvarti la vita. Dov'è l'inghippo? Devi raggiungere Dogtown. Attenzione, residenti di Dogtown. La presidente è riuscita a schiantarsi col suo Space Force One nel nostro umile distretto. Quell'uomo ha mille motivi per prendere la Myers in ostaggio. Agenti dormienti. È ora di svegliarli. E così gli anni USA ci stanno ributtando nella mischia, eh? Occhi aperti. Ora siamo nella tana del lupo. Porta la Myers via da lì. Devi andare via. La sua sicurezza è della massima priorità. Merda, merda, merda! Se ci beccano qui siamo morte. Aspetta. Hai sentito? Vio Onnipotente si muove! Scappa! Di qua! Presto! Qualcuno ha fatto la spia. Sai, V, il tradimento non è mai bianco o nero. È una recita, V. Ovunque lei vada, si lascia dietro una scia di cadaveri. Voglio solo quello che mi ha promesso Songbird. La cura. La situazione è cambiata. Devo sapere da che parte stai. L'illusione di libertà attira i disperati. Scegli la tua verità, V. Su, hai un ferro in mano. Puntalo alla testa di qualcuno e premi il grinde. Se non faccio qualcosa e in fretta morirò. Allora sembrava. Ha, conferences.